Io penso che sia la fine, legittimamente l'apice del capitalismo iper consumista a costo della letterale vita, proprio attuando dei genocidi in più paesi per risorse in modo tale da produrre ma non innovare, con tecnologia inutile che nessuno ha chiesto tipo l'Apple che fa un iPhone ogni trimestre, uguale adesso la Sony, che per la seconda volta decide di dirottare la propria ridicolezza sulle torri di una credibilità già di per sé molto incerta. Perché sul serio? A chi cazzo frega? A chi importa? Di grazia! Qual è il target di questa merda? Che considerando quanto faccia cagare già come suppellettile è forse più utile come supposta, ma questo prevedrebbe avere un'utilità. Perché? Perché c'è questo spingere del capitalismo per far spendere più soldi dando neanche più la fotografia del fumo, ripensando all'arrosto come lontano e affettuoso ricordo? Tu mi metti una console che in teoria serve per giochi, che già in partenza non ha, e per averla devo... no, dovrei spendere un'altra centinaia di sberle per il lettore dei dischi che ovviamente continueranno a esserci meno, dato che la si fa passare come una merdata ecologica di sprechi e batte la pesca. Ma è tutto per rendere qualsiasi cosa un abbonamento di live service da pagare perché paghi l'abbonamento che già paghi di roba che devi pagare. Se vuoi l'abbonamento che paghi? Ma vaffanculo! Vaffanculo porco di quel tutto! Cosa stracazzo significa? Io lo capisco. Lo capisco che Vanna Marchi viveva nel cazzo di 3000 e i coglioni vanno inculati, ma qui si è proprio... si è proprio quattro universi parallele avanti. Però, momento che va approfondita sta merdata ignobile dello spegne sul digitale, dato che è solo e unicamente un modo per rendere inaccessibili un domani tutte le robe di oggi più di quanto già non siano rispetto a ieri. E ancora continuano a buttare roba che nessuno ha chiesto, come 120 fps che vedi il buco del culo in 8k del gioco, che non è un gioco perché è un film che viene fatto passare per ipergioco. Ma ti sentiresti troppo apertamente un coglione ad aver speso 70-80 euro per un disco di plastica che ti dura neanche tre giorni, ma lo stai solo a subire, non più a giocare. E l'upscaling ultra mega sgaso con l'acceleratore di particelle di Ginevra e l'intelligenza artificiale che quei completi rincoglioniti proseguono imperterti a infilare dappertutto fuorché nel loro culo, dove giusto ci potrebbe essere una vaga utilità, considerando che nessuno la vuole. Ma diavolo bestia, come cazzo si sono ridotti? No, ma un gioco adesso? Ce l'hanno! La Memas della 5 senza giochi non vale più. Astrobot? Astrobot sarebbe il giocone piccone, lo stesso che viene reputato tale perché sembra un gioco della Nintendo e prova che chi lo dice non ha mai toccato neanche con lo sguardo un gioco della Nintendo, ma solo perché ci sono palette con più di tre colori e non ti fa venire voglia di grattarti le tonsille con un archivugio dopo dieci minuti all'ora in Nintendo? Questa è l'idea del sonaro medio di gioco Nintendo? Una mascotte che hanno riscoreggiato dal merda di giochino VR, tipo preinstallato che invece è successo tra i letterali quattreni... Ricordo, ricordo ci fosse mio nipote pazzissimo di Astro, non sa il cazzo come si chiamava, e il gioco non mio nipote, e qualcuno che ha un minimo di creatività perché, guarda caso, è un creativo, ha detto Mmm, perché non proviamo a fare un gioco che è un gioco riprendendo gli altri giochi che giocavamo facendo i giochi? E quello che ne è uscito è uno stupendo cimitero pieno di lapidi per ricordare a chiunque abbia anche solo un sentore di affetto per la parola PlayStation. Cosa sia stata la Sony che non ha buttato miliardi per comprare una barca di ladri scappati di casa come Crunchyroll, e teneva aperti gli studi che produceva i giochi che l'hanno resa famosa? Questa è una fotografia perfetta dell'attuale stato della macchina, mai abbastanza oppressa, che è quella gamer, di gente che non capisce un cazzo se non rincorrere dei merda di soldi come l'ognomo nella copertina di Nevermind di Nirvana, che sta solo a guardare specifiche tecniche paro paro al fumettino degli scienziati che uno fa Ho inventato il robot che urla! E l'altro gli fa Perché? E allora lui fa Ecco qui uguale, solo che è unicamente il modo di visualizzare il più possibile, con più pixel, modello poligonale, iperrealisticamente, una mela che ruota a 360 gradi, quando ancora dovrebbero inventare un gioco che è più sgaso di Mega Man 2.